Iniziata da qualche giorno la preparazione del Pescara Primavera, Massimo Epifani, come stanno andando le cose, come prosegue la marcia di avvicinamento alla nuova stagione del Pescara? Va bene, stiamo lavorando a Pescara, stiamo combattendo tutti i giorni con il caldo, però bene, siamo in fase di costruzione, è una bella esperienza, ho a che fare con dei ragazzi molto interessanti e molto bravi, quindi lavoriamo con tanto entusiasmo. L'allenatore del Pescara Primavera era quello che Massimo Epifani voleva oppure l'obiettivo è quello di allenare nella prossima stagione in Lega Pro? Mi è capitato di allenare prima del Pescara, l'ho preso con tanto entusiasmo perché sono tornato a casa, intanto posso dire che da quest'anno sono allenatore professionista, quindi si lavora, adesso sono concentrato in questa annata calcistica, poi l'anno prossimo si valuterà tante cose. Andando in tutto sono contento di essere tornato e di fare un bel lavoro prospettato dalla società anche in prospettiva, quindi speriamo di fare bene. Essere nel Pescara significa per Massimo Epifani anche e soprattutto lavorare al fianco di Zenek Zeman, hai svolto gran parte della preparazione di Rivi Sondoli, anzi tutta la preparazione di Rivi Sondoli, a fianco al tecnico Boemo, è stata un'esperienza importantissima come crescita professionale? Sono stato onoratissimo di stare con il mister perché credo che non è Massimo Epifani a parlare del mister Zeman, per me è stata una grandissima esperienza, 15 giorni ho cercato di rubare tutti i segreti che ha, anche se lui è veramente una persona al di fuori dell'allenatore, è una grandissima persona che mi ha accettato e mi ha accettato con grande entusiasmo, quindi sono contento di questa esperienza, è una cosa che mi accultura ancora di più e speriamo di portarla nel futuro. È proprio così dura la preparazione di Zeman o c'è anche un po' di leggenda dietro a tutto questo? Il mister fa lavorare, si lavora, si corre, si fa le cose fatte bene, chi sta dal di dentro capisce le dinamiche del lavoro dell'allenatore, chi sta al di fuori magari parla di questa leggenda che il mister fa lavorare tanto, ma lavora con grande intensità, ma sicuramente con dei carichi di lavoro che poi porteranno dei frutti durante l'anno.